Mattinata terramana per il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli che ha visitato il carcere Castronio assieme al sindaco Maurizio Brucchi e all'onorevole Paolo Tancredi. Con i vertici del penitenziario terramano si è parlato dei nuovi progetti posti in essere e anche del sovraffollamento che non rappresenta però più un'emergenza. Ma il sovraffollamento è un problema superato, ce lo ha riconosciuto anche l'Europa. Sono qui a visitare questo carcere che è uno dei più complessi che abbiamo nella nostra regione e particolare attenzione porrò proprio alla parte che riguarda le donne, all'asilo nido che c'è in carcere. Io so che questo carcere è oggetto di una importante progettualità e quindi mi farà piacere vederla con i miei occhi. Prima della visita al carcere il sottosegretario si era recato a Palazzo di Giustizia dove ha incontrato il procuratore di termo Antonio Guerriero e i presidenti del Tribunale dell'Ordine degli Avvocati Giovanni Spinosa e Guerino Ambrosini. Tema dei colloqui soprattutto la cronica carenza di organico. Il sottosegretario ha mostrato competenza e consapevolezza delle criticità particolari di questo tribunale. Questo è un tribunale di frontiera perché è un tribunale che dichiara 225 sentenze di fallimento in un anno con una percentuale abnorme di stanze di fallimento. Quindi un rigore assoluto nelle dichiarazioni di fallimento è lo specchio di un territorio che ha un tessuto produttivo in spaventosa difficoltà. Il tribunale di termo ormai è al limite, non riesce più ad andare avanti. Noi abbiamo cancellerie che aprono due volte a settimana solo per tre ore e quindi ci sono grossissimi problemi.